Siamo qui sinceramente perché ci siamo accorti che questo è un mercato importante, abbiamo richieste e siamo sollecitati continuamente. Le aziende devono fare la scelta di dispositivi mobile adeguati e devono decidere quali saranno le app che svilupperanno per essere competitivi in questo mercato che è sempre più mobile. Due punti importanti che noi percorriamo sempre sono l'analisi preliminare, l'analisi prima della scelta e l'usabilità delle applicazioni. L'analisi preliminare che cos'è? Le aziende quando devono partire con un'applicazione sicuramente sentono l'esigenza, fanno prima di tutto un'analisi di tutto quello che c'è sul mercato, studiano i loro processi di lavoro interni, devono capire chi utilizzerà queste applicazioni per fare appunto una ricetta. L'usabilità delle applicazioni è stato detto anche oggi. L'applicativo è sempre più simile, l'applicativo aziendale, all'applicativo che utilizziamo noi come consumatore finale. Anche il design, le richieste che ci vengono fatte sono addirittura, vogliamo un'applicazione che sia simile alle applicazioni che si usano fuori dal contesto aziendale e la grafica deve essere addirittura una grafica piacevole da vedere. Abbiamo visto diverse tipologie di applicazioni aziendali, io qui ne cito solo alcune, supporto alle attività di vendita, supporto alle attività di manutenzione e consegna, abbiamo visto tanti installatori che fanno la fotografia davanti a un apparato, lo mandano direttamente in sede perché devono fare il rapporto. La sede stessa può sapere che l'operatore in quel momento era in quel posto oppure se in zona c'è un guasto può mandarlo direttamente. Mi aggancio al relatore di prima che ha detto sempre di più le applicazioni sono social. È vero, ci sono delle aziende che chiedono un applicativo dove è l'utente a fare la foto e mandarla direttamente. Questi sono solo alcuni esempi. Supporto alle attività di vendita, sono fantastiche. Qui a Bologna abbiamo una società che fa manuteria che ci ha chiesto addirittura di indicare al commerciale in zona quali saranno i possibili clienti che devono andare a conoscere. Ma non solo, vogliono anche dargli la possibilità di indicargli quali sono gli acquisti che potrebbe fare. O se è stato un cliente in passato su un determinato canale e adesso ricordiamo a lui che appunto quell'azienda ha quei servizi e riallaccia un rapporto. Gestione e localizzazione delle foto di veicoli. Sistema di carpooling. Ne abbiamo sentito parlare tanto sia per i comuni. È sicuramente un sistema ottimo anche per le vallate che si deve spostare, lo può fare in attività sociale oppure anche per le grosse aziende che devono gestire delle flotte di veicoli. Vi do un dato in Francia, a differenza dell'Italia, il sistema di carpooling è pazzesco. Lo provi una volta, lo riprovi sempre. Da noi stanno partendo moltissimi progetti e io penso che diventerà un'abitudine anche per noi. Gestione anche perché chi deve pensare alla viabilità non lo può più fare pensando a cosa lui sposta. Nel senso, un'amministrazione non può più pensare io sposto l'autobus, posso influenzare i veicoli dei taxi o i treni o altro. Deve influenzare anche il traffico. Il sistema di carpooling fa questo. Quali sono i benefici che un'azienda rivela nel momento in cui decide di sviluppare applicazioni per la sua azienda? Ci sono due tipologie di benefici tangibili, quindi economici, riduzione dei costi e aumento dei ricavi, che sono basati su andamenti, su flussi. Ci sono molte analisi proprio su questo settore. Questo si lega però alla pre-analisi. Quindi l'azienda che si avventa subito a fare un'applicazione aziendale senza fare una corretta pre-analisi farà un'applicazione inutile. i benefici non tangibili, soddisfazione utenti, maggior tempestività, qualità e quantità delle informazioni. Questo economicamente è difficile da rilevare. Un'applicazione che ti consente però di fidelizzare meglio il tuo cliente, che ti dà la possibilità di parlare bene del tuo prodotto, questo crea un beneficio che non è tangibile economicamente, ci sarebbe anche da dire, ma che crea benefici non tangibili rilevanti per la stessa azienda. Quali sono i parametri del payback time che bisogna prendere in riferimento? Progetti di innovazione ICT presentano un payback time positivo se sono intorno ai tre anni. Questo è un dato generico. Parliamo di quello che facciamo noi. Progetti mobile e wireless business. Hanno tempi di ritorno dell'investimento estremamente brevi. In 18 casi su 25 il payback time è inferiore a due anni. Due anni tenendo conto di che cosa? Del valore, del beneficio tangibile. Ci sono dati che ci danno indicazioni ancora più positive. Dove c'è wireless c'è business, dove c'è il passaggio del wireless c'è un applicativo. Cosa voglio dire? Siamo dentro un posto che fa ristorazione al McDonald's, al Burghi, una grande mensa. Oggi cosa ti danno? Uno scontrino dove tu entri, metti un codice sul tuo device e ti colleghi su internet. Se metti la tua email, facciamo un passo in avanti, che cosa puoi sapere? La parte di back-end che ha sviluppato l'applicativo può sapere che tu mangi quel tipo di panino, quel tipo di insalata, quel giorno a quell'ora, ti profila. Questo è uno dei tanti aspetti. Il wireless crea delle piazze e queste piazze vanno riempite di contenuti. I wireless di vecchia generazione vengono sostituiti da sistemi importanti come Meru. Vediamo alcuni pregi di Windows 8. Come ha detto benissimo il tecnico che c'era prima, non c'è una ricetta. Oggi sono qui a parlare di Windows 8 perché a noi ci ha affascinato moltissimo, sin dall'inizio. Oggi è entrata nel mercato il 28 di ottobre nel nostro mercato. Perché ne vorrei parlare? Perché secondo me è un vantaggio, è una leva importante e sarà premiata proprio dalle aziende. Innanzitutto dove gira Windows 8, gira su device potenti. In molti casi molto più potenti di tablet, di iPad. Quindi è proprio un computer. Io ho il mio computer, stacco il monitor, me lo metto dentro la borsa da viaggio. L'interfaccia dell'impaginazione metro è intuitiva. Andate a vedere Windows 8. E anche in versione beta, oltre che il fatto che chi lo prende entro un periodo limitato avrà un vantaggio economico altissimo in promozione. Ma la cosa bella è proprio il sistema metro. Il sistema metro è rivoluzionario. Non ci sono le finestre. Hai un'usabilità completamente diversa. In più il sistema di Windows 8 passa da lo smartphone al tablet, al notebook, al pc ed è l'utente, si ritrova sempre con lo stesso applicativo. Non si perde. Compatibilità tra device. Se io ho un device dove all'interno c'è Windows 8, è compatibile con la maggior parte dei device che comunque ci sono attualmente nelle aziende. E questo, ricordiamocelo, è uno dei limiti per il quale le aziende, che non sono sciocche, hanno sempre tirato il freno in questi mercati, in questi due anni, dove il mercato è stato folle. Dalla fine del 2011 a oggi il mercato è così forte per quanto riguarda le applicazioni e i device. Ma se non hanno ancora, molte hanno fatto ovviamente le scelte, però se ancora il salto non è stato fatto e ci sarà adesso, è perché si voleva comunque aspettare questa entrata. Mancava l'attore principale, un attore che da vent'anni che è sul mercato, che ha vent'anni di storia, che ha vent'anni di sviluppo. Prima c'è stato detto che questi device collegati tramite wireless possono avere una criticità, è vero, l'attacco di malware. Faccio una domanda, qual è il sistema più attaccato del mondo? Windows. Qual è il sistema che ha una sua storicità e una sua capacità di far fronte a questo? Windows. Questo è un dato sul quale bisogna riflettere. Periferiche compatibili. Stesso tool di sviluppo, Visual Studio lo vorrei affrontare dopo. Facilità di comunicazione e condivisione delle risorse. Paradigma del touch, portato a fondamento dal sistema operativo. Il mouse e la tastiera non sono state eliminate, assolutamente. Saranno utilizzate soltanto quando bisognerà utilizzarle. Il tablet potrà interagire con la penna, potrà interagire con un mouse, potrà interagire con una tastiera. Questo fondamento l'hanno portato loro. Ora bisogna domandarsi. Sono arrivati dopo quattro anni e mezzo dove i big hanno preso quote di mercato importante. Ma tutto sommato, a noi sviluppatori, cosa converrà? A chi sviluppa, cosa converrà? Alle aziende, cosa converrà? Io sono un'azienda, ho avuto per 15, 20 anni il mio sistema operativo. Domani arriva qualcuno e mi dice, guarda, io ti do dei device dove va un altro sistema operativo. Quindi l'imprenditore dice, ho due sistemi operativi. Due tipologie di assistenza, per caso, ho altre tipi di criticità. Sono due sistemi che non conosco. Oggi, pensate cosa avviene. Si entra in quell'azienda e si dice, il tuo sistema operativo che ha girato nella tua azienda per 15, 20 anni, io posso crearti l'applicativo sui device mobile che si integra esattamente a quello. Secondo voi l'imprenditore non ci penserà? Secondo me sì. E secondo me è anche per questo che, diciamo, molti hanno aspettato e hanno fatto soluzioni, hanno già intrapreso molte soluzioni, ma ripeto, secondo me il mercato deve ancora partire. L'ottimizzo nell'utilizzo delle risorse hardware. Qualcuno ha parlato delle batterie. È vero, i tecnici che hanno parlato prima potranno anche spiegarlo meglio. Tecnicamente il sistema operativo, del quale noi parliamo di iOS e Android, consuma molta batteria e è molto, invece, ottimizzato su Windows. A parità di device è migliore. La batteria è energia, l'energia è un costo, quindi ha un vantaggio economico. Limiti superati da Windows 8. I limiti superati da Windows 8 nelle aziende, noi ne abbiamo visti due. Come abbiamo detto, la difficoltà di integrazione e di sincronizzazione tra i diversi device, e questo non c'è più, perché fino a ieri bisognava collegarsi all'IRP e fare un tipo di applicazione oggi fa parte di un unico applicativo. E la seconda cosa è la resistenza da parte degli utenti dovuti alla scarsa familiarità con i terminali e i nerd dell'adduzione. Parliamo agli utenti che sono dentro la nostra azienda. Chi ancora non ha preso l'iPad e il tablet? E chiediamo a loro, preferiresti avere un dispositivo che parla il linguaggio che conosci, oppure vuoi un dispositivo completamente nuovo sul quale appunto ti dovrai applicare e dovrai imparare? La soluzione qual è? Le applicazioni di Windows sono costruiti, già come si dice, app emittente o ricevente di contenuti. Faccio un esempio, io ho un applicativo e voglio condividere qualcosa. È l'evoluzione del concetto copia e incolla. Se io quella parte di documentazione la voglio mandare su un altro applicativo, su un'altra applicazione che ho all'interno, mi verrà indicato, non so, Photoshop, WordPress o altri sistemi. Ogni app può dichiarare come comportarsi. Al contrario, l'applicativo in sede di programmazione dovrà dichiarare come comportarsi e quindi dovrà dire se sono ricevente o non ricevente. In più c'è un'altra cosa che trovo veramente interessante è che sempre nella programmazione dell'applicativo l'applicazione dovrà essere pensata anche se nel caso in cui non viene utilizzata al massimo potrebbe addirittura essere eliminata. Quindi diciamo che ci sono moltissime, moltissime cose che ci fanno pensare a un'entrata di Windows 8 come attore in prima linea e non in secondo piano come è stato fino ad oggi. Il professionista, il tecnico che c'era prima ha detto una cosa fondamentale. Io oggi se devo fare un'applicazione su iOS, devo programmare su iOS che è comunque un applicativo che se devo fare anche su Mac non posso riutilizzare la stessa programmazione, ne posso usare in parte. Se devo fare su Android, devo utilizzare, devo programmare in Java e il Java sul desktop però non ha avuto grandi risultati. E' la seconda volta che provano a spingere Chrome OS ed è la seconda volta che hanno una ricaduta importante. Qui noi parliamo di un sistema che ha la stessa piattaforma, che ha il Kerner NT, che ha lo stesso linguaggio Visual Studio, tranne per alcune librerie che sono ovviamente di concetto. Quindi se io ho uno smartphone non posso usare il mouse o se ho un desktop non posso usare il GPS, la programmazione sarà la stessa. Ultimi due minuti, debolezze, quali sono? Quelle più rilevanti secondo me sono prodotti nuovi, quindi tutto ciò che è nuovo va testato, gli sviluppatori stanno imparando tutti i nuovi paradigmi. Tutto ciò che abbiamo detto ora, tutto ciò che è cambiato, viene interiorizzato in questo momento dai programmatori. Questo che vuol dire? Che la capacità produttiva dei programmatori ancora non è massima. E questo è una debolezza comunque. Quale sarà il futuro? Bene, gli OS ovviamente è sul mercato dei consumatori. è il numero uno, è fortissimo, ma le cose cambiano. Il Android è in aumento sulle vendite. Personalmente noi pensiamo che Windows 8 potrà avere una fetta di mercato importantissima nel mercato business. Perché? Per tutti i motivi che abbiamo detto. Ricapitolo dicendo alle aziende di analizzare i processi di produzione interni, capire quali sono i settori sul quale si possono creare gli applicativi e perché e chi li utilizzerà e di adottarli e di agire e di adottarli perché è una formula vincente che porta profitto, velocizza i tempi e crea e migliora la capacità competitiva delle aziende sul mercato nazionale e internazionale. Vi ringrazio.